Secondo me non siete pronte per questo video haul di Temu, vi giuro c'è un sacco di roba mega figa, mega bella, io spero che sia tutto come da descrizione Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Carlotta e oggi nuovo video haul di Temu dedicato alle cose per la casa Io non vedo l'ora perché all'interno ci dovrebbero essere delle chicche che però testeremo insieme se effettivamente sono belle oppure se non meritano Direi di partire subito con due prodottini che sono al 90% se utilizzate il mio codice sconto che vi lascio scritto qua sotto o se aprite il link Uno penso proprio che sia all'interno di questo pacco guardando le dimensioni, aspettate ho dimenticato le forbici e penso di averne estremamente bisogno Ok allora all'interno di questo pacco dovrebbe esserci un distributore girevole di bevande o insomma di qualche di fare E anziché 22 euro e 60 potete pagarlo solo 2 euro e 50 Allora all'interno dovremmo avere i beccucci, eccoli qui Intanto che molto l'ultimo volevo dire, magari qualcuno di voi non conosce Temu ma semplicemente è un'app di shopping online Che vende praticamente di tutto ma dai prezzi stracciati perché vendono direttamente dal produttore al consumatore Cioè noi senza intermediari quindi tutto costa un botto nero raga Io ho già fatto svariati ordini sia in collaborazione come in questo caso ma anche da sola e mi sono sempre trovata molto bene Ma se non vi piace qualcosa avete la possibilità di reso gratuito fino a 90 giorni E se il pacco viene consegnato in ritardo vi danno anche 5 euro di sconto, a me è capitato Meglio vi vengono direttamente accreditati sull'app 5 euro quindi veramente top E come vi stavo dicendo prima ci sono un sacco di sconti e questa volta con il mio codice sconto che vi lascio scritto qui Potete avere ad esempio questo a solo 2 euro e 50 ma adesso andiamola a testare Ok ho messo all'interno dell'acqua e niente raga funziona perfettamente ovviamente poi gira se volete altre bevande Qui abbiamo un altro prodottino che con il mio codice sconto anziché 9 euro e rotti lo pagherete 1 euro solo Quindi raga top Ed è una cosa che ho preso perché io lavoro spesso a computer ma a casa non abbiamo messo l'aria condizionata Perché in realtà si sta abbastanza bene ma ogni tanto soffro anche io un pochettino il caldo Così ho preso uno di questi ventilatori che si può attaccare al computer Stavo cercando di capire come si aprisse ma semplicemente si tira su dalla base quindi molto molto carino Poi qui si accende, ah ok ho già carico quindi super Questo me lo metto davanti al computer e io sto bella fresca Ah raga per me è già super approvato questo Quasi quasi me lo attacco anche al cavalletto così mentre facciamo il video non crepo di caldo No dai si sta abbastanza bene oggi è piovuto prima Allora ragazzi dovete ammetterlo su tiktok Vi guardate anche voi i video delle americane che sistemano il frigorifero E hanno un sacco di gadget mega belli che da noi o non si trovano o se li trovate costano veramente una barca di soldi Ecco io ho trovato lui su Temu e ho dovuto prenderlo per forza Ah raga io so è pazzesco Praticamente è un contenitore ermetico ma all'interno ha tutte le vaschettine Qui abbiamo i manici quindi se vogliamo portarlo in giro tipo andiamo a fare un picnic Ci mettiamo le mandorle ci mettiamo le nocciole poi ci mettiamo le caramelline gli stuzzicadenti tutte queste cose qua E guardate all'interno abbiamo appunto tutte le vaschette che però possiamo togliere Quindi in realtà se vi serve averne metà libero metà no potete far così Se lo volete tutto libero li eliminate tutti se tipo che cavolo ne so volete passare le noccioline a vostro amico Comunque questo si toglie io trovo che sia pazzesco c'è proprio uno di quei video americani Mamma che sogno raga o tipo le more mirtilli ribesse riempire tutto questo di queste cose super deliziose E poi lo riponete in frigorifero senza problemi All'interno di questo pacchettino abbiamo un'altra chicca Tra l'altro io vi invito a guardare quanto cavolo le imballano bene le cose Cioè manco su siti un botto più costosi E qui abbiamo un barattolino con il suo cucchiaino in legno Raga quanto è cute Cioè ha tutta la chiusura perfettamente sigillata E poi anche il suo cucchiaio Io cioè innamorata raga Qui non so cosa ci metterò ma penso la frutta secca Oltre ai primi due prodotti che come vi dicevo potete prendere al 90% In realtà mi hanno lasciato anche un codice sconto Che vi permette di avere tutti i prodotti su Temu al 30% Quindi raga io ne approfitterei Allora intanto che vi parlavo ho aperto la scatolina E qui abbiamo delle cosine che devono essere super utili per il mio lavoro Ossia una lampada led Allora proviamo a montarla anche se mi sembra molto intuitiva la storia Allora si era spenta la macchinetta dopo che vi ho detto non fa così caldo E' uscito scritto temperatura elevata Comunque qui abbiamo la parte in basso che è tipo il cavalletto Quindi poi potete chiudere potete riaprire la lampada e riporla se non vi serve Il cavo è già in dotazione ed è anche abbastanza lungo perché è attaccato in fondo alla E qui abbiamo appunto la lampada che varia di colore varia di intensità C'è il suo telecomandino ma servono le pile che io al momento non ho Ma c'è anche l'applicazione infatti sto scaricando l'applicazione e nel mente Oddio cosa ho schiacciato Oh no si stava scaricando Cosa ho schiacciato Ok intanto che si scarica l'app che è questa qui Andiamo ad aprire Oggi sono un danno unico Andiamo ad aprire anche questo Perché praticamente io volevo fare tutta la postazione con le luci in studio Non lo so ogni tanto mi vengono queste fissazioni Queste dovrebbero fare più o meno la stessa cosa ma sono più piccoline da mettere sulla scrivania Anche qui abbiamo un telecomando Anche questo con la pila Spero che l'app sia la stessa così non ne devo scaricare 200 Abbiamo i suoi piedistalli E qui abbiamo le due luci led che si attaccano usb Poi vabbè ci sono anche i comandi da qui In che senso musica Andiamo a montarle Quindi semplicemente vanno inserite qui dentro Ok E due E adesso andiamone a montare di là intorno al computer Anche se c'è un po' di macello ma chi se ne frega Ed eccoli qua in azione Anche loro hanno tante opzioni Vanno a ritmo di musica per quello c'era il simbolo della musica Adesso non so se solo sull'app o in generale qualsiasi musica Però adesso lo testo Volevo mettervi una musica famosa ma col copy poi non funziona Ma guardate Raga praticamente utilizza il microfono E va a ritmo Tipo Tanti auguri Tanti auguriate Io pazzisco raga ma che bello Applicazione scaricata E adesso allora tipo Schiacciamo il rosso Il viola Qui abbiamo anche tutta la ruota colori Quindi possiamo scegliere la gradazione che più ci piace Raga che figata Di solito queste cose costano un rene Mentre qui costano poco Poi abbiamo tipo magic No raga Che bellina E' tipo tutta colorata diversa Mamma che bella Ah raga questo video non so quanto durerà Ma io ci sto mettendo un'eternità a filmarlo Perché per ogni cosa che apro mi perdo via due ore Sono troppo belle E non vi ho detto che tra l'altro ci sono anche Il coupon per un valore totale di 100 euro Cioè veramente Andate a vedere qua sotto Trovate tutte le offerte scritte E adesso andiamo a vedere anche questo pacchettino Raga qui abbiamo una cosa Oh ma che bello Che io volevo troppissimo Che praticamente è il porta pellicola Alluminio e carta da forno Ovviamente dobbiamo montarlo Ma quanto è bello Allora qui vi basta inserirli di lato E poi andare a rimettere questo Che ha i due cosini magnetici in fondo Così Poi tirate tipo la pellicola E andate a tagliarla Aspettate che piccola Una mare difficile Ecco qui Tirate così Intanto passa un aereo E la pellicola è tagliata perfettamente Proseguiamo con due cover per il telefono Questa azzurrina è di Walter Mentre questa qui rosa è mia Io ho preso il modello 14 Pro Che poi è il mio telefono In teoria anche il MagSafe Dovrebbe chiamarsi La calamita dietro E adesso vediamo Uh ho trovato 10 euro E guardate Ok È super super carina Vado a cercare qualcosa Che abbia il MagSafe Per vedere se funziona L'unica cosa che ho Che utilizza questa tecnologia È il power bank E raga Perfetto Cioè Io Follemente felice Perché non avevo la cover Che faceva questa cosa E ogni volta che dovevo usare questo qui Dovevo toglierla E rischiare di rompere il telefono Mentre adesso Oltre a essere super carino Super estivo E costare veramente niente Funziona anche quindi Top Altra cosina Super super utile Praticamente questi Sono i beccucci Per dare l'acqua alle piante Noi quest'anno Andremo via Un po' di giorni Basterà mio papà Eccetera eccetera Ma non voglio dargli Il compito Di innaffiare Ogni volta Tutte le piante Cioè Voglio solo che passi A vedere che la casa Sia in ordine Ma Questi qui Praticamente andate a mettere La bottiglia qua Poi questo Dovrebbe andare All'interno E far scendere Goccia a goccia L'acqua E direi che lo andiamo a provare Immediatamente Lo avvitiamo Come un qualsiasi tappo E andiamo A metterla Nel terreno Gli ho aggiunto Anche il suo tappino E vedete che scende Goccia a goccia Adesso voglio vedere Quanto dura Un litro d'acqua Per capire Se metterne Uno Oppure due Perché tipo Questa è una pianta Di limoni Raga è abbastanza grande Ha bisogno anche Di abbastanza acqua Guardate che bello E quindi questi Super utili Ultima cosina Di questo video All Raga Tutto dedicato Agli accessori Per la casa È lui Il portaghiaccio Quello per fare il ghiaccio Ma a forma di orsettini Raga Ma che bello Adesso lo metto a fare Così Quando vi edito il video Vi metto Il risultato finale Vi basterà Chiuderlo Bene 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 Ogni orsetto Ha il suo ingresso Dell'acqua Raga Ma quanto è carino Ok Andiamo a vedere Se sono usciti Anche se mi sa Che ho messo Un po' tanta acqua Eccolo qui Ma che carino Il codino Glielo rotto Però magari Non deve averlo Guardate Ci sono anche gli occhietti È uscito tutto Quindi io direi Super approvato Però io Ho esagerato Con l'acqua Devo metterne Decisamente meno Questi erano Tutti i prodotti Che ho preso Da Temu Raga Io sono felicissima Spero che Vi ho dato anche Qualche spunto Perché ci sono tante cose Molto utili Per la casa Anche molto carine Adesso Prima di salutarvi Faccio vedere Come utilizzare I codici sconto Comunque è facilissimo Selezionate Quello che volete Prendere Mettetelo nel carrello Poi se volete Togliere qualcosa Anche da qui Potete Deselezionare Quello che non vi Interessa più Per dire Fate Acquista Qui vedete Che ci sono I metodi Di spedizione Che appunto Al momento Ad esempio È gratuita Ci sono Tantissimi Metodi Di pagamento Diversi Potete usare Anche Paypal Potete usare Apple Pay Potete usare Clarne Pagare Pagare In tre rate Scala Pay Un po' Tutto quello Che vi piace Di più E poi Qui c'è scritto Utilizza Codice sconto Qui vi vestirà Vi basterà Inserire Il codice sconto E poi cliccare Utilizza E il gioco È fatto E come vi dicevo Inizio video È veramente Super facile Super sicuro Avete i resi Se il pacco Arriva in ritardo Vi danno 5 euro Di credito Quindi veramente Avete tutte le agevolazioni Del caso Io vi ringrazio Tantissimo Se siete arrivati Fino a qui Fatemi sapere Quali sono I vostri prodotti Preferiti Io raga Non saprei scegliere Però queste luci Mi hanno letteralmente Rapito il cuore I cosini delle piante Sono super utili Ma anche il cosino Per mettere Tutte le cose Tutti i cibi Cioè quanto è americano Io ho innamorata E niente Adesso vi saluto Vado a montarvi Questo video E noi ci vediamo Tra pochissimo Con un nuovo video Ciao